L'artista esistenzialista, buona giornata a tutti, c'è un articoletto di Raspini sulla Repubblica di Stamani che appunto fa riflettere non poco sulla reale potenziale possibilità che le mascherine non servono più quantomeno lui dice che in America, dato che è stato vaccinato il 50% delle persone, della popolazione mentre purtroppo in Italia soltanto il 13,6% o il 13,8% c'è una buona possibilità, reale potenziale possibilità che diciamo non si utilizzino più le maschile, quantomeno in America già stanno pensando a quello basta quel metro e mezzo o metro minimo bla 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 di distanziamento sociale e quindi probabilmente ritorneremo ad abbracciarci, ritorneremo a baciarci e quant'altro oppure questo è un po' il senso del suo articolo, Raspini ripeto sulla Repubblica e c'era questa riflessione profonda sulla reale potenzialità di ritornare a una vita normale presunto normale però chiaramente vanno vaccinate le persone, lì già sono state vaccinate le persone e in tanti altri paesi sta prendendo in sé valutazione, in sé considerazione scusate questa tipologia di valutazione cioè quella di eliminare le mascherine non come dice qualcuno all'aperto, al chiuso e all'aperto, acuto riflessione pagato, un artista esistenzialista e buona serata a tutti